E' di là che se le sta pescando? Che è questo? Piccolino! Perché è stato dispensato? Non deve essere suo momento! E' vero! Sì, sì, siamo sicuri! Ma è disponibile però lui con la gente! Oh, ma! Cosa è sempre ha? E'perse la marina se la metà. Voi c'è un'appo. Cosa è un'appare! Ci sono tante per me avevo. Ha. Per me avevo il gioco. Inciutto! Non è essenzial. Non è facile. Non è un'appare!